Ciao a tutti ragazzi, sono Pepino Daoce e mancano pochissime ore alla grandissima partita Napoli-Milan di UEFA Champions League. Ho detto che oggi avrei detto la mia, un pre-partito e poi un post-partito e poi la prossima settimana avrei caricato sia l'andata che il ritorno con il mio amico Matteo Fedele per quanto riguarda questa super sfida di quarti di finale di Champions. Vi dico la mia sulla partita, sarà una partita molto bella secondo me, ma secondo me passa il Napoli perché è una squadra che quest'anno se lo merita, come ho sempre detto, perché è una squadra che merita sicuramente il campionato. E poi secondo me merita di arrivare in finale di Champions League, questa è una squadra molto forte. Sicuramente non è da sottovalutare il Milan perché comunque tre settimane fa aveva vinto 4-0 Napoli-Milan, però secondo me stasera il Napoli non farà vincere il Milan, stasera il Napoli trionferà. Sinceramente sono contento se il Napoli vince perché visto il disastro della Juventus, della mia Juve, sono contento per la stagione dell'Audace, un'altra squadra del Sud e soprattutto il Napoli. Ragazzi io non ho mai odiato il Napoli, a differenza di tanti tifosi juventini, io non ho mai odiato il Napoli. Per me il Napoli è sempre una squadra che mi è sempre piaciuta. Uno perché amo le squadre del Sud, la ottima stagione del Catanzaro, poi andrò anche a fare un video sulla splendida stagione del Catanzaro in Serie C, ma questo è un video, un racconto a parte. Invito anche e ci tengo a fare, a seguire il canale di Malati del Napoli con Don Ciccio, Don Franco, mi fanno straridere, sono bravissimi nel fare i video. Spero per loro che stasera Napoli passa e spero che Napoli possa passare. Detto questo vi invito a iscrivervi al canale, a attivare la campanella. Vi invito anche ai malati del Napoli a seguire il mio canale e a fare pubblicità. Pepino Audace, ci vediamo poi per il post partita di Mila-Napoli. Speriamo che il Napoli vince, forza Napoli!